Si scrive NCC, si legge noleggio con conducente, non molti sanno forse che dietro minivan come questo c'è a tutti gli effetti un servizio di trasporto pubblico per definizione, anche se a svolgerlo sono privati. Ben 2000 alle aziende in Toscana, circa 3000 ai posti di lavoro diretti, attività che ora rischiano di chiudere bottega dal 1 gennaio per un decreto di 10 anni fa che adesso minaccia di diventare seriamente attuativo e che impone ad ogni tappa effettuata il ritorno in auto rimessa, cosa praticamente impossibile per chi compie grandi distanze. Supponendo che io avessi un cliente a seguire dopo di voi che arriva a Peretola, dovrei tornare alla rimessa che è in provincia di Siena e poi ritornerà a Peretola, il che è semplicemente assurdo. I taxi pensano che noi si possa fare concorrenza a loro ed è assolutamente sbagliato perché comunque abbiamo clientele completamente diverse. Chi soffrisce del servizio nella maggior parte dei casi è un'utenza turistica americana che nel tempo a disposizione può chiedere di fare il giro della Toscana in lungo e in largo, ma spesso vuole girare l'intero bel paese, cosa che con l'anno nuovo diventerà insostenibile. A me molto spesso capitano clienti, faccio un esempio, che arrivano a Milano, a Malpensa, vogliono essere presi e vogliono girare l'Italia fino alla costiera amalfitana magari in due settimane. Mi faccio capire, se lei deve andare una sera in costiera amalfitana ed è della Toscana, che fa la sera, torna in Toscana e poi li va a riprendere in costiera il giorno dopo? Teoricamente, cioè dal primo gennaio sì, dovrebbe essere così. Un NCC compie in media all'anno 80.000 km, cifra che rischia di esplodere in maniera improduttiva e logorante se la regola del ritorno all'autorimessa entrasse in funzione. Dal primo gennaio, con il rientro in rimessa, teoricamente potrebbero triplicare questi chilometri, di cui le due parti in più sarebbero di vuoto, di nulla, di spreco. Spreco di carburante, spreco di lavoro, spreco. Guardi, non abbiamo contribuito ad alzare la media, il nostro viaggio è stato breve, abbiamo terminato, ci possiamo fermare qui. Grazie intanto per questa chiacchierata. Grazie a voi.